Buonasera a tutti ragazzi, amici del canale YouTube e a tutti appassionati di campane come me. Oggi ci troviamo alla chiesa di San Nicolò a Cercina di Lanciano. Abbiamo un concerto di tre campane per una piccola che non suona, che la corda tratta a mano per l'etatavessa. E adesso ascoltiamo il sonale per risolvere il punto, quindi fra il tempo lo faccio vedere, questo è il campanone, questa ramezzana, lancia un'altra ramezzana, lancia una piccola che la corda tratta a mano per l'etatavessa. E adesso ascoltiamo il bate sul campanone e poi mi lo dia a rimanere di Google. Quindi a presto da Eduardo Campanaro Milotto e buon ascolto a tutti. Ciao! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!